Ciao, io sono Samuele e benvenuto in pompe di calore su misura. In questo video ti mostrerò come avviare la versione demo del software. Cerchiamo tra le app allora la nostra demo. Appena avviata la versione demo non presenta nessun modello di pompa di calore caricato. Voglio precisare che la versione demo ha due limitazioni. La prima limitazione è che si può utilizzare solo un modello di pompa di calore, non è possibile caricare altri modelli. E la seconda limitazione è che non è possibile importare curve di altre pompe di calore da file PDF. Per avviare il simulatore è indispensabile andare in progettazione modello e scaricare l'unico modello di pompa di calore già caricato, andando qui e cliccando su Import a file modello. A questo punto salva modello nell'insieme. Andando poi su insieme pompe di calore troverai quindi la pompa di calore già caricata e pronta per essere utilizzata nella simulazione. Per vederne i dati e le caratteristiche puoi andare su curve e pompe di calore e divertirti nel trovare COP potenza assorbita al variare della temperatura sorgente e al variare della temperatura dimandata. Un altro metodo per caricare il modello presente nella versione demo è quello di importarlo da un file PDF. Quindi tornando in progettazione modello, selezionando Import a grafico, vai su Import a file PDF. A questo punto l'unico file PDF presente nel software è questo, vai su Import a importare le curve di resa nel tuo software. Per capire come fare ti invito ad andare a vedere il video tutorial che ho dedicato apposta all'argomento. A questo punto puoi testare la simulazione cliccando sul tasto Simulazione e procedere come indicato nei vari tutorial per la simulazione dell'impianto e i risultati ottenuti. Buon lavoro!